La tenuta economica dei lavoratori, attività delle aziende in deroga e sicurezza. Per la UIL di Pesaro molti problemi che attendono risposte più veloci. Pierpaolo Rivalta. Solo nel Pesarese centinaia di imprese hanno presentato domanda per la Cassa Integrazione e migliaia di dipendenti sono in attesa. Tra ingorghi burocratici, rimpalli e ritardi, molti devono andare avanti senza anticipi. Poi temete che sia a rischio la tenuta economica dei lavoratori? Questo è il rischio. Il rischio è che in questo momento ci sia la non tenuta dei lavoratori e ci sia anche il problema delle aziende. Qui ci vorrebbe che il governo, invece di fare tanti proclami, incominciasse a muovere un pochettino più le leve per velocizzare la burocrazia perché è quella che sta rovinando praticamente il paese, ma è una cosa che viene da lontano. C'è poi la vicenda delle aziende che lavorano nonostante il blocco delle attività. Per la UIL molte richieste sono ingiustificate. Da ieri sera alle 18 dalla PEC mandata dalla prefettura le aziende sono 850 quasi e chiaramente abbiamo guardato insieme al prefetto, insieme anche a CGL e Cisle alle categorie sempre delle altre due consorelle dei confederali e abbiamo mandato un buon numero di segnalazioni, almeno un centinaio tra tutte perché secondo noi non tutte queste aziende fanno il lavoro esenziale. La salute e la sicurezza erano un tema prima, lo sono ancora di più ora. È il momento per imparare qualcosa e per cambiare? Nel Pesarese abbiamo la brutta abitudine che ci viene dal passato che tutto quello che è sicurezza non è un investimento e perciò ci siamo trovati all'inizio di questa pandemia molto in ritardo rispetto a tante altre aziende. Non voglio generalizzare perché generalizzare è sempre brutto però dovendo parlare di una provincia bisogna dire che la maggior parte degli imprenditori vede la sicurezza come un costo e non come un beneficio e ne paghiamo le conseguenze.